Un'iniziativa per sensibilizzare soprattutto i giovani, spesso vittime delle stragi dal sabato sera. Un appello alle istituzioni affinché si impegnano di più e mettano in atto iniziativa per promuovere il trascorrere di serate all'insegna della legalità e non dell'abuso di alcol e droghe che annebbiano le menti e causano incidenti, così come non usare cellulari e altre apparecchiature mentre si è alla guida, perché è statisticamente accertato che sono la causa del 70% di incidenti. Contro le stragi dal sabato sera, l'associazione Un Fiore per la Pace, preseduta da Lorena Arravazza, ha promosso domenica mattina un raduno di Ferrari in collaborazione con la Gils Villeneuve di Palermo. 13 bordi di Maranello hanno prima sfilato per il corso 6 aprile e quindi la sosta davanti al castello dei Conti di Modica. Lorena Arravazza ha portato il saluto alla delegazione dei ferraristi soffermandosi sui motivi di tale iniziativa, degustazione di prodotti locali e poi via verso Castellammare. Il raduno, oltre alla sua valenza sociale, ha rappresentato anche la promozione turistica del nostro territorio.